Andare in visita ufficiale nei comuni è un dovere, prima ancora che un piacere, perché abbiamo bisogno di far sentire vicino concretamente le istituzioni e quella della regione in modo particolare. Non auguro a nessuno di poter fare il sindaco in un contesto difficile come questo, se non con la vicinanza di tutti, anche delle forze di opposizione, se la loro attività è improntata a unire ciò che serve e non a dividere. Credo che la regione siciliana abbia dato concreta testimonianza di vicinanza agli enti locali e vorrà continuare a farlo fino all'ultimo giorno di questa legislatura. Racamuto, come tutte le aree interne, merita attenzione. Qui c'è già la materia prima, non c'è bisogno di inseguire i miracoli. Si tratta soltanto di trasmettere sentimenti di speranza.